E' stata sicuramente la nota più lieta della presentazione del 29esimo giro rosa a Monza, all'interno della Villa Reale, era presente Claudia Cretti, che è stata insignita della maglia rosa 2018 ad Onorem. La bergamasca della Valcar, classe 1996, fu vittima di un terribile incidente durante la settima tappa dell'edizione 2017 del Giro Rosa, la Isernia Baronissi. Una caduta in discesa a velocità elevata, un mese di coma all'ospedale Rummo prima del ritorno a casa e del ritorno alla vita. Sono molto emozionata, ma vi ringrazio tutti per questa bella maglia, davvero. Il ciclismo mi ha aspettata quando ero piccola e spero che mi aspetti di nuovo adesso. In tanti mi hanno scritto in questi mesi, vi ringrazio, da qualche mese Claudia è tornata in sella alla sua bicicletta, per riprendere confidenza con il suo mondo. Ieri il Giro Rosa l'ha giustamente celebrata, sognato di retrovarlo presto in gruppo. Video, la grande classe scia grande giuristano arrivando, Euro Sporti.